Caldonazzo, questo è nevico, nevico che è lì che è colosburgico lì, che è colosburgico lì. Cos'è l'alla che appena vive Drio e che l'alla è Caldonazzo? Sicura? Eh madonna! Alla che l'alla è la Valsugana che la stanno andando? Eh sì, ero d'accordo che è la Valsugana questa. Ma pensavo adesso è più su, adesso è proprio sulla nevico. Adesso che l'allievi quello lì, il campeggio lì, ti desegno su da quella strada, lì. Perché il centro commerciale lì, dove le metti.